Parole guerriere, seminari rivoluzionari di filosofia. È un ciclo di incontri sull'importanza di un pensiero politico profondo e travolgente. Ho promosso l'iniziativa che prende spunto da un celebre intervento di Beppe Grillo del 2013 in cui diceva parole che erano state abbandonate da tempo, di cui si era perso il significato, sono diventate delle armi potenti. La parola dunque come filo conduttore di tre appuntamenti fra luglio e settembre prossimi con interventi di filosofi importanti. Partiremo il 13 luglio trattando del potere delle idee che possono determinare scelte decisive. A settembre discuteremo della questione morale nella società della trasparenza e poi della funzione dell'intellettuale nella dialettica politica. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una spinta intellettuale ma anche visionaria per sostenere il cambiamento culturale e politico che il Movimento 5 Stelle sta contribuendo ad alimentare nel Paese. Alcuni di noi parlamentari parleranno del loro mandato svolto in linea con le idee e i valori del Movimento. La convinzione è che i tre seminari possano nutrire lo spirito. Infatti con i filosofi invitati ci soffermeremo sui processi storici dei grandi temi della politica. Viviamo ancora in un'epoca di omologazione delle idee e di debolezza del discorso politico. Il Movimento 5 Stelle è rimasta infatti la voce antisistema, il megafono dei cittadini. Perciò parole guerriere, seminari rivoluzionari è un'occasione guardando alle sfide future per stimolare l'esercizio della critica politica al fine di agevolare le trasformazioni culturali e sociali necessarie all'Italia. L'ispirazione 5 Stelle può aggregare tante altre persone con sensibilità e formazioni differenti sul principio della democrazia diretta. In sintesi per sconfiggere tutta una casta responsabile dell'immobilismo del Paese bisogna insistere sul ruolo delle idee dirompenti.